Cari traders, se non sappiamo impostare un corretto stop loss non riusciremo mai a far decollare il nostro trading anche se abbiamo la migliore strategia che ci dà buona probabilità di indovinare la direzione se lo stop loss non è settato con le misure corrette non riusciremo mai a rendere il nostro conto profittevole questo l'argomento del video settimanale e io sono Giuseppe Polito andiamo a vedere poi le operazioni sulla mia meta trader, sul mio conto reale, le operazioni che avete ricevuto per chi mi segue, ma parliamo prima di tutto dello stop loss quante volte vi è capitato di inserire lo stop, essere beccati, consolidare una perdita e poi il prezzo va nella direzione che avevamo previsto scommetto che vi è successo tantissime volte non è una maledizione, non è casualità lo stop loss è un ordine che serve ai big player per poter inserire i loro ordini quindi oggi parliamo di quello che è la caccia agli stop come i big player hanno bisogno dei nostri stop loss per poter mettere a mercato le loro posizioni quindi dobbiamo conoscere questa logica perché se no saremo sempre e comunque beccati prima che il prezzo parta e vada nella nostra direzione quindi andiamo a vedere quelli che sono gli argomenti di quest'oggi prima di tutto andremo a vedere se settare lo stop loss stretto oppure largo perché ovviamente la logica del trader vincente è quello di mettere uno stop stretto io nella mia vita da trader inizialmente mettevo lo stop strettissimo affinché potevo avere poco rischio e molta vincita ma il prezzo tende ad oscillare uno stop troppo stretto porterà inevitabilmente ad avere una quantità importante di trade in perdita piccole perdite ma saranno numerose spesso e volentieri le nostre previsioni sono corrette ma l'abbiamo messo troppo stretto metterlo troppo largo ovviamente significa anche rischiare molto e allo stesso tempo peggiorare quello che è il nostro risk reward quindi qual è la misura corretta quest'oggi lo vedremo a secondo di quello che è la strategia e poi ovviamente parleremo della caccia e stop dei big player come possiamo evitare di essere la preda dei big player ma parlando di stop loss stretto e di stop loss largo dobbiamo senz'altro cercare di capire qual è la strategia che stiamo utilizzando se noi utilizzeremo una strategia breakout quindi quando il prezzo si consolida, si congestiona, lateralizza e poi esce con forza da questa fase solitamente c'è un breakout quindi un'estensione del prezzo in questo caso noi andremo a mettere lo stop stretto adesso andremo a vedere anche degli esempi se invece lavoriamo in swing quindi stiamo cercando di lavorare sulle oscillazioni del prezzo noi andremo a mettere uno stop più largo con una misura adeguata che ovviamente va vista a secondo della pratica ma andiamo a vedere qualche esempio pratico in questo esempio siamo sul neozelandese yen vi posso far notare come in questa zona vedete come il prezzo ha lateralizzato in questo punto esatto c'è stato il breakout e il prezzo si è esteso in questo caso io cercherò di entrare in questo punto e metterò lo stop poco sotto per quale motivo? perché io devo cercare di investire sul fatto che il prezzo si estende se sta facendo un falso breakout e ritorno immediatamente indietro meglio uscire immediatamente con una piccola perdita piuttosto che far sì che il prezzo ritorni nella fase laterale e io rimango dentro una fase di casualità ovviamente con una perdita ancora maggiorata quindi stop stretto e cercherò di accorciare immediatamente quando potrò il mio stop affinché mi possa mettere al pareggio se invece lavoro in swing quindi sto cercando di lavorare su quelle che sono le oscillazioni del prezzo che cosa farò? cercherò di entrare nei punti di rimbalzo per andare in questo caso verso l'alto quindi prendere il nuovo ciclo rialzista perché siamo in un uptrend un trend verso l'alto in questo caso io quando entrerò qui in questo punto tendenzialmente il mio stop lo metterò esattamente poco sotto e che cosa succede? succede che tutti gli stop di coloro come me che sono entrati qui in questa salita hanno creduto di poter cavalcare il nuovo ciclo hanno inserito tutti questi stop che non sono altro che degli ordini di vendita ricordiamoci che noi abbiamo fatto un'operazione in acquisto verso l'alto e il nostro stop loss non è altro che un'operazione di vendita che chiude l'acquisto appena fatto tutta questa serie questa quantità di ordini di vendita che sono i nostri stop servono ai big player per far sì che possano inserire i loro ordini di acquisto quindi i nostri stop in vendita sono gli ordini che cercano i big player per poter inserire la quantità enorme dei loro ordini per poi far salire il prezzo quindi che cosa succede? succede che i big player fanno riscendere il prezzo e qui vanno a beccare tutti gli stop loss che erano stati inseriti nel minimo precedente dopodiché il prezzo inizierà a salire in questo caso ovviamente tutti i trader mettono lo stop stretto vengono colpiti e alla fine la direzione che avevano previsto era corretta allo stesso tempo vi faccio un altro esempio abbiamo una situazione qui di lateralità all'interno di questo range qua c'è un piccolo breakout vedete come il prezzo va a fare un pullback e poi riparte in questo punto io sarei potuto entrare e normalmente come tutti i trader vanno a inserire lo stop loss qui sotto guardate come il prezzo tende a salire e poi con uno spike vanno a prendere tutti questi ordini qui sotto per poi fare risalire il prezzo in questo caso ovviamente se io avessi messo lo stop qui sotto sotto il livello sotto questi prezzi io probabilmente non sarei stato beccato e allo stesso tempo anche se io lavorassi in controtrend quindi per esempio dopo questa salita qui io ho un livello importante vedo questo segnale di inversione vedete questa ottima pin bar cerco di andare per la discesa invece poi il prezzo ritorna a prendere tutti gli stop inseriti poco sopra il massimo quindi gli stop loss di coloro che avevano investito per il ribasso vengono colpiti in questo punto e poi i big player potranno far scendere il prezzo quindi come vedete non possiamo mettere uno stop molto stretto dobbiamo sapere quali sono le zone di liquidità dove possono essere gli stop di tutti gli altri trader e cercare di non fare la loro fine dare una misura assoluta è impossibile ma attraverso la pratica attraverso le lezioni che potreste studiare nel mio corso o con molta esperienza di anni e anni capirete quali sono i punti in cui ci sarà la caccia agli stop e mettervi poco sotto lo stop o addirittura inserirvi voi dentro la caccia agli stop e cioè entrare in questo punto anziché in questo entrare in questo punto anziché in questo entrare in questo punto anziché in questo e in questo caso mettervi molto stretti con lo stop quindi entrare dentro la caccia agli stop creata dai big player fare il loro stesso gioco quindi mi raccomando fate tesoro di queste informazioni e adesso andiamo a vedere prima di tutto vi faccio vedere le operazioni che per chi mi segue ha ricevuto ve le faccio vedere nel mio cellulare così come le avete ricevute e poi andiamo a vedere la metatrader e allora sono 9 i segnali che avete ricevuto ma soltanto 4 sono quelli che sono entrato al mercato nel mio caso hanno procurato un profitto detto di 1175 euro 13 ottobre, primo video 20 minuti di video in cui andavo ad analizzare le 8 coppie valutari più interessanti alla settimana e poi ci sono i singoli segnali con l'immagine e l'audio partendo dal canadese yen che non è entrato a mercato euro yen che non è entrato a mercato e invece qui abbiamo il neozelandese yen che nel mio caso ha procurato una piccola vincita che adesso andremo a vedere il gold, l'oro che non è entrato a mercato il petrolio greggio che invece mi ha procurato una piccola vincita superiore alle 100 euro poi abbiamo il lasterlina yen che è il segnale che mi ha procurato quasi 900 euro di profitto quindi il segnale più interessante della settimana e poi abbiamo NZD CAD che ho chiuso poco fa con una piccola perdita quindi vedremo la prossima settimana se potremo metterlo in campo e poi questo video che avete scaricato in mp4 euro franco svizzero e NZD CAD che era relativo all'immagine precedente adesso andiamo nella mia meta trader andiamo a vedere questi singoli segnali come li ho sviluppati nel mio conto ed eccoci sul mio conto reale real one lo seleziono e lo vedete da qui come al solito metto del nastro sopra la sigla del broker per evitare di fare pubblicità occulta andiamo a vedere le posizioni aperte sul saldo metto anche qui un poco di nastro per nascondere i miei capitali per un discorso di privacy vedete che sul profitto non c'è nulla nessuna posizione aperta andiamo a vedere lo storico operazioni le operazioni di cui abbiamo parlato prima vedete qui ci sono 181 euro di profitto per il petrolio sterlina yen 900 euro 898 per la precisione neozelandese yen 170 euro di vincita e il neozelandese canadese 74 euro di perdita dove non vedete nessun profitto perdita sono i pendenti che inserisco quando mi allontano temporaneamente quindi non riesco a gestire un'apertura manuale vedete qui nel grafico abbiamo il neozelandese canadese quello che mi ha procurato la perdita di 74 euro fase laterale vi avevo detto se c'è una caccia di stop qui sopra cercheremo ovviamente in discesa quando romperà qui sotto è entrata, si stava estendendo alla fine si è consolidato chiusura con una piccola perdita andiamo su sterlina yen invece quello che mi ha procurato nel mio caso circa 900 euro di profitto l'apertura è stata qui tutta questa discesa e poi è un po' risalito potevamo gestire qualora ci fosse stata una rottura a un trade anche un po' più ampio di più ampio respiro lasciandolo aperto anche per il weekend però vedendo questa difficoltà e comunque con le notizie finanziarie legate alla sterlina queste oscillazioni ho preferito chiuderlo in anticipo il neozelandese yen vi faccio notare l'apertura che era qui in questa fase estensiva quindi almeno nel mio caso ero in profitto sono arrivato fino a 900 euro di profitto e poi è risalito e ho chiuso quando ho visto molta forza dei compratori con 170 euro soltanto di vincita e l'ultimo è il crude oil questa ottima estensione io sono entrato purtroppo troppo tardi sono entrato più o meno in questa zona qua e ho recuperato 170 euro soltanto con questa discesa quando ho visto questi rifiuti queste ombre pronunciate ho chiuso immediatamente prima che risalisse quindi piccolo profitto con il petrolio adesso giriamo la camera e andiamo ai saluti di rito per quest'oggi è tutto ragazzi mi raccomando fate trading con la testa e ci vediamo la prossima settimana buon trading ciao 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 Grazie a tutti.